Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere sul sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale. La proposta prevede a partire dal 2023 l'incremento del finanziamento alla sanità dello 0,21% del PIL per ciascuno degli anni dal 23 al 27 fino a raggiungere una percentuale annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo. Una che riguarda la dotazione del fondo sanitario nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, che ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quelli europei bisogna arrivarci se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici, ma anche quando li troviamo oggi abbiamo una norma che se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare che ricordo ha il più alto tasso di medici, dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. D'accordo con la proposta, sottolinea Italia Viva, ma abbiamo perso l'occasione dell'MS. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto richiedere l'utilizzo di queste risorse, avremmo potuto riterizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità, è evidente che non lo si è voluto fare, però con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello dei servizi sociali assistenziali. Detto questo noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge, ovviamente lo votiamo, siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse, ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spesi meglio, vanno riorganizzati, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria. Sì, anche dal Movimento 5 Stelle, c'è però un tema di gestione delle risorse. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge sulla proprietà della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera. Per il centro-destra, Fratelli d'Italia sottolinea come i firmatari di questa proposta non siano credibili quando parlano dei finanziamenti alla sanità. Non sono credibili perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, in un documento di 994 pagine, dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente che questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi. Il governo che per primo, dopo tanti anni, aumenta gli stipendi di medici e infermieri. Evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. Più soldi in sanità, ma anche più addetti ai lavori, sarebbe sempre auspicabile. Ma è importante capire queste risorse come vengono spese. Quindi una programmazione, una propriatezza della spesa è fondamentale perché se no diventa un pozzo senza fondo. Cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. Conseguentemente, anche soltanto valutando ciò che è stato, con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno tendenziale. Nel 2024-2026 con Schillaci e quindi il governo attuale avremo 1,06 in più. Questo a titoli diciamo reali. Poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto, ma imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio. Al termine della discussione sono 27 voti a favore PD, Italia Vive Movimento 5 Stelle, 11 quelli contrari, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. L'atto è anche frutto dell'unificazione di due diverse proposte di legge, una presentata dall'Aggiunta regionale e una da numerosi consiglieri del gruppo PD, primo firmatario e il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. Abbiamo fatto questa proposta in sintonia con altre regioni dove già la proposta di legge è stata o sarà approvata. Dispiace che nell'ambito della votazione in Consiglio regionale della Toscana la minoranza di centrodestra si sia voluta distinguere e ha votato contro tenendo più di conto di quelle che sono le impostazioni e le ragioni di partito che non quelle delle esigenze di salute di tutti i toscani e di tutte le toscane. L'Italia del 1943 è la stagione dell'incertezza e l'è il convegno promosso dal Consiglio regionale, dall'Istituto Ferruccio Parvi e dall'Istituto Storico Toscano della Resistenza. Una a due giorni per esaminare in particolar modo il periodo fra marzo e autunno 1943. Il tema è quello dell'incertezza che ha segnato lo Stato e gli italiani nel passaggio tra il crollo del fascismo e l'attesa di un dopo da definire che ha nell'armistizio una data simbolica. È un convegno che mette mostra le nuove ricerche sull'8 settembre. Noi siamo passati da una situazione in cui l'8 settembre era un momento di vergogna nazionale a una più attenta valutazione in cui la vergogna è tutta della monarchia e del governo Badoglio. Ma in realtà l'esercito e la società italiana reagiscono come possono all'abbandono che è stato fatto dalle autorità. E l'8 settembre in questo senso può segnare anche uno spartiacque, l'inizio di un'attività di resistenza e di pressa di coscienza. Una riflessione importante, sottolinea il Presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, per ripensare a questo pezzo di storia fondamentale per il nostro Paese e come siamo stati capaci di uscire da questo periodo di grande incertezza. Come ci hanno visto dall'estero in questo anno che è stato l'anno fondamentale, l'anno del cambiamento, è lo stato sospeso, qualcuno parla del 43 come la morte dello Stato ma è anche la rinascita dello Stato perché è dal 43 che riparte poi il fondamento della democrazia. Quindi il ripensare a questo pezzo di storia fondamentale per il nostro Paese, sottolineandolo che quella voletà dell'incertezza in un momento nel quale il dato fondamentale del tempo che viviamo è l'incertezza, è di buon auspicio. Spunti alla riflessione, sottolinea il Presidente del Consiglio regionale, anche in un'ottica di memoria condivisa. Un anno che va studiato e conosciuto di più perché ha cambiato la storia del nostro Paese. Allora noi quest'anno con l'avanzo di amministrazione in piccola parte perché poi vogliamo lavorare anche nel sostegno alle popolazioni, alle amministrazioni locali colpite dall'alluvione, lavoreremo proprio per fare iniziative di memoria, di memoria rivolte all'ottantesimo anniversario nel 2024 e alle stragi nazi fasciste e all'iniziativa relativa agli 80 anni della liberazione. Un premio all'architettura contemporanea come arte sociale proiettata nel futuro con l'obiettivo di promuovere una qualità di vita migliore. Presentata la quarta edizione del premio Architettura Toscana che valuterà opere realizzate in regione negli ultimi cinque anni. Avere la capacità di saper disegnare il nostro territorio nelle forme moderne ma anche apprezzando quello che è la storia, l'arte, la cultura, la bellezza della Toscana sta alla base dello spirito di questa iniziativa. È un modo per stimolare i più giovani a cercare di darci anche degli impulsi, una strada da seguire perché poi le politiche di pianificazione richiedono grande capacità d'ascolto. Essere giunti alla quarta edizione è un traguardo importante, dice il presidente del comitato organizzatore. Abbiamo una giuria di altissimi professionisti. Abbiamo Michele De Lucchi che è parte del presidente della storia dell'architettura e del design italiano. Michelle Carlana che è un giovane architetto in uno studio che si sta affermando sempre di più. Abbiamo Francesco Isidori che è il socio fondatore insieme a Maria Claudia Clemente di Labix che è un altro studio importantissimo italiano. Abbiamo Claudia Mainardi che è una componente di Fosbury Architecture che sono i curatori dell'attuale padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Emanuele Asaporito che è una sociologa perché in tutto architetto è anche sociologa perché nel nostro premio fondamentalmente cerchiamo di dare anche un taglio che non sia unicamente disciplinare. Compito dei giudici sarà premiare la ricerca, la qualità del fare progettuale, l'opera architettonica come strumento di rigenerazione, trasformazione del territorio con un occhio alla sostenibilità e al rapporto tra uomo e ambiente. A promuovere il premio è il Consiglio regionale, gli ordini degli architetti di Firenze e Pisa, la Federazione degli Architetti della Toscana, la Fondazione Architetti Toscana e Ance Toscana con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti. Veicolare il messaggio per cui l'architettura, ma in particolar modo il progetto di architettura in tutta la sua complessità è il volano imprescindibile, irrinunciabile, esemplare per favorire meccanismi di rigenerazione, di riqualificazione territoriale e paesaggistica complessivi che possano valorizzare il territorio regionale. Che forse più che l'aspetto del premio che contiene in sé un'accezione di competizione trova interessante il confronto, quindi l'occasione che viene data tramite questo premio di confrontarsi quindi fra i vari architetti o altri progettisti che lavorano in Toscana di poter mettere a confronto le proprie idee, i propri progetti, spesso anche su temi simili e quindi vedendo come lo stesso tema viene declinato in maniera diversa a seconda delle varie impostazioni progettuali. C'è un light motive di continuità perché noi crediamo che il concorso di idee, il concorso di progettazione sia uno strumento molto valido per poter intervenire nelle nostre città, per evitare appunto che ci siano progetti non ponderati in concorrenza e in confronto con gli altri, quindi è uno strumento molto valido anzi confidiamo che questo strumento sia sempre più applicato. Lucia Annibali, titolare della difesa civica in Toscana a Bruxelles, per la due giorni al Parlamento europeo della conferenza della rete europea dei difensori civici, tra i temi trattati, le migrazioni ai diritti fondamentali l'intelligenza artificiale e le amministrazioni pubbliche, gli standard etici nella vita pubblica. Questa partecipazione della Toscana, a parte la Toscana è quella prima regione che ha creato il difensore civico regionale quindi ha questa sua peculiarità. La partecipazione è comunque una testimonianza del fatto che ci siamo come regione toscana, come difensore civico, porteremo poi in ufficio quello che abbiamo ascoltato qui ma ripeto sono stati temi piuttosto alti, ecco anche un po' di politica diciamo europea, nazionale, internazionale quello che forse più ci interessa è portare con noi ecco questo senso di appunto buona amministrazione di etica dentro la pubblica amministrazione, di trasparenza e di correttezza perché effettivamente bisogna essere poi credibile affinché un cittadino possa fidarsi di te e fare in modo che la pubblica amministrazione sia a sua volta ecco credibile, efficiente e trasparente. Grazie a tutti